La cultura popolare è stata sicuramente la grande fonte trainante di tutta l'economia italiana e anche della storia del nostro paese. Ed è molto interessante osservare di come oggi il popolo, che ormai ovviamente non esiste più tendenzialmente, il popolo è stato trasformato in massa già da diverso tempo, da diversi decenni, però resistono ancora in certi piccoli paesi, nei borghi, in alcune cittadine italiane, in alcune regioni, esiste ancora quel tessuto, soprattutto tra le persone più anziane, quel tessuto sociale che potremmo definire quel tessuto ancora di cultura popolare che riesce a sopravvivere anche se è stetto. Ed è interessante osservare come nel passato, nei decenni passati, queste persone, appunto il popolo che non aveva studiato, che aveva al massimo forse la quinta elementare, nei casi magari delle persone che avevano studiato un po' di più, al massimo la terza media, queste persone riuscissero a fare delle cose straordinarie. Il popolo è quello che ha dato, in qualche modo, la bellezza che ha consegnato l'Italia, ma non solo l'Italia, adesso noi parliamo del nostro paese, ma potremmo citare anche il popolo in generale, in tutte le parti del mondo, come dice il proverbio, tutto il mondo è paese. Il popolo che appunto si inventava delle cose straordinarie, come nel caso della cucina, ad esempio in Italia, noi la cucina, la nostra cucina, il mondo gastronomico italiano è sicuramente considerato la nostra tra le cucine migliori del mondo, se non la prima. E molti dei piatti, delle famose ricette che noi conosciamo, sono anche ricette, soprattutto ricette popolari, ricette d'origine contadina, di origine povera anche. La nostra non è come la cucina francese, che invece è molto più raffinata, è una cucina da chef. Quindi pensiamo anche ai dolci delle varie tradizioni culturali, insomma delle tradizioni popolari. Quindi il popolo, ad esempio, che non aveva mai studiato era in grado di costruirsi la casa. Famiglie intere che compravano magari un pezzo di terra e sapevano senza aver fatto studi ingegneristici, studi di architettura, eccetera, non sapevano forse neanche che cos'era l'ingegneria, ma sapevano costruirsi delle case che poi duravano, ci abitavano tantissime, anche decine di persone. L'arte anche del contadino che era in grado di piantare, di seminare il terreno, di saper dare i propri frutti e di saper quindi vivere anche dei frutti della propria terra. Questa è una capacità che ovviamente, senza aver studiato nulla, semplicemente guardando, osservando il mondo circostante, ma pensiamo anche agli uomini che una volta erano in grado di sistemare tutte quelle piccole faccende domestiche, anche guasti elettronici, senza aver mai studiato niente di elettronica. Com'era possibile tutto questo? Perché l'essere umano ovviamente ha delle capacità insite al suo interno, che se ovviamente gli viene data anche la libertà di esprimere queste sue capacità, l'essere umano, anche la persona più umile, anche la persona che non ha mai studiato niente, può dare dei frutti straordinari. Il problema di oggi, e questa appunto è la riflessione che volevo svolgere, è che noi troviamo invece esattamente il contrario. persone che sono laureate, persone che hanno studiato, che hanno appunto tantissimi certificati da esporre, ma che poi magari non sono in grado neanche di cambiare una lampadina, che non sono capaci di cucinarsi neanche uno spaghetto al pomodoro, che ordinano tutto su Just Eat o su Glovo, che figuriamoci se sarebbero in grado di costruirsi una casa. Un ingegnere oggi, secondo noi, un architetto è capace di costruirsi da solo la propria casa, insomma, oltre al fatto che ovviamente non sarebbe neanche più possibile. Anche perché noi oggi abbiamo costruito un mondo che è esattamente rovesciato, un mondo dove abbiamo i cosiddetti esperti, i tecnici, che hanno appunto studiato quella materia, a malapena, insomma, che hanno più che altro imparato delle nozioni tecniche che gli sono state date, e si limitano a fare quello. Quindi noi ormai andiamo incontro non più ad una società popolata da esseri umani, quindi da persone pensanti che ragionano, che sono in grado anche di fare, perché l'uomo è tale proprio perché è capace di fare, è capace di fare anche tante cose diverse, non può fare sempre la stessa cosa, altrimenti diventa un oggetto, uno strumento, un automa. Il coltello, che è un oggetto, può fare sempre la stessa cosa, cioè tagliare, tagliare il pane. Ma l'essere umano è tale proprio perché ha queste capacità diverse, multiple, perché il contadino non era soltanto un contadino, ma era anche colui che sapeva appunto sistemare quelle faccende domestiche di cui parlavamo poc'anzi, che siamo anche alle donne che sapevano cucire, sapevano cucinare, che sapevano appunto fare anche dedicarsi all'attività agricola, eccetera. E oggi l'uomo odierno che cosa sa fare? Al massimo si limita a premere un pulsante. Questo infatti è un aspetto molto interessante, perché noi oggi andiamo incontro a una società non più di persone, ma di automi, di robot. D'altronde il transumanesimo, che è ormai la cultura dominante, non mira più a creare una società di uomini liberi e pensanti, ma una società di automi, di persone sempre più soggette ad obbedire in maniera asettica, senza riflettere, d'altronde questo era anche quello che diceva Heidegger, la condizione dell'uomo contemporaneo e la condizione dell'uomo della vita inautentica, senza pensare, semplicemente obbedire a quelli che sono gli ordini scritti. Ed ecco che infatti andiamo incontro agli obbrobri della nostra società, anche perché ormai noi siamo talmente soggetti a tante di quelle leggi, l'uomo di oggi è talmente piegato da una burocrazia che ti impedisce di fare qualsiasi cosa. Se una volta c'era appunto questa libertà anche di potersi, tra virgolette, costruire la casa da soli, comprandosi un terreno, quello che era, oggi è impensabile una cosa del genere, perché con tutte le leggi, le tasse, tutte le diavolerie che ci siamo andati a inventare, noi ormai viviamo dentro una prigione, noi possiamo soltanto obbedire a quello che il copione è già scritto, non possiamo andare oltre. Ed ecco che quindi l'uomo diventa sempre più soggetto passivo, sempre più un soggetto consumatore, che si limita appunto a fare, a svolgere il suo compitino al lavoro, a fare la vita da schiavo praticamente che svolge, e poi con il denaro che guadagna va a comprare e alimentare questo sistema consumistico che sta distruggendo il mondo d'altronde. Una volta il contadino viveva di quello che coltivava, aveva anche la fattoria, quindi consumava quello che produceva, consumava. Oggi ovviamente tutto questo non è più consentito, anche per le tasse che sono state aggiunte, e quindi per tutte le altre, come dire, limitazioni che impongono all'essere umano di seguire tutti quanti la stessa strada. Non ci possono essere delle alternative, delle vie laterali in qualche modo. Ma tutti dobbiamo seguire lo stesso identico copione. Poi ci lamentiamo ovviamente che il clima, dei cambiamenti climatici, dei problemi delle risorse, quando siamo noi i primi che abbiamo costruito questa società in questo modo e abbiamo portato a creare appunto le basi per la nostra estinzione. Perché la cultura del contadino, la cultura dell'agricoltura era proprio una cultura che puntava al risparmio. Si mangiava quello che c'era una volta, si consumava quello che la natura ci aveva dato. Non è che uno si poteva permettere il capriccio di buttare via le cose o di comprare altro, anche perché non c'erano le cose. C'era di meno, ma si viveva meglio forse. Si viveva con più cura, con più risparmio, accontentandosi di quella che era l'essenza della vita. Si viveva di poco, ma alla fine che cosa ci serviva? Oggi invece vogliamo di più e siamo sempre più ingabbiati, siamo sempre più indebitati e ci troviamo appunto a vivere in maniera come delle masse di lobotomizzati. Noi italiani tra l'altro che eravamo un popolo di geni, intraprendente, un popolo che si sapeva sempre arrangiare, che si sapeva sempre rinventare le cose. Che cosa siamo diventati oggi, se non degli zombie? Che vanno nei centri commerciali, nei McDonald's, che ordinano appunto su Glovo, su Just Eat, che non siamo più capaci neanche di fare appunto un piatto di pasta, che è quella che è la nostra tradizione. Perdiamo tutto, ci stiamo perdendo tutto, per inseguire appunto questa modernità che vediamo dove sta portando. Altra considerazione, proprio per chiudere il nostro breve intervento, è interessante osservare come l'epoca dei laureati, dove troviamo sempre più laureati, ma c'è sempre meno cultura in giro, si legge sempre di meno. Le librerie chiudono, le case editrici sono in fallimento. Come ci spieghiamo tutto questo? Quando negli anni 60-70, dove c'erano meno laureati, ma si leggeva molto di più, c'erano anche molte più case editrici, gli scrittori vivevano anche del loro lavoro, riuscivano a vivere tramite i libri, oggi invece assistiamo a questo massacro, a questo genocidio culturale. Oltre al fatto che le cose a livello sociale, a livello mondiale, vediamo come stanno andando. Quindi, cosa c'è che non va? Che cosa è andato storto? Questa è una considerazione, perché ormai noi seguiamo soltanto la via della tecnica, come diceva anche Heidegger, la strada della tecnica, e abbiamo abbandonato la via della saggezza invece, la via dell'umano, per inseguire quello che stiamo vedendo oggi. Quindi forse la cultura contadina, la cultura popolare, che oggi viene così tanto sbeffeggiata, che viene derisa dai grandi, come dire, da tutti i grandi signorotti con la puzza sotto il naso, che perché hanno letto due libri, si credono chissà che cosa, ecco, insomma, forse dovremmo avere un po' di umiltà, farci un esame di coscienza, e pensare che poi questi contadini, questa gente è ignorante, appunto, ignorante a livello più che altro nozionistico, che non sapevano magari chi era Dante. Però erano quelle persone che hanno in qualche modo risollevato l'Italia, che hanno ricostruito questo paese, che ci hanno in qualche modo anche consentito di avere un futuro, fino a quando poi non siamo arrivati noi a distruggere tutto. Questa è la considerazione, la riflessione che volevo fare. Grazie.